Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Oggi vi raccontiamo la storia di una carovana, di una carovana importante perché ha una croce, quella della Croce Rossa. 5.000 km è andata a ritorno con l'Ucraina per portare circa 100 profughi dal paese che in questo momento è sotto l'attacco della Russia in Italia, in tutte le regioni, in Abruzzo e a Terra, ma ne sono arrivati circa 16. Ci sono due contatti positivi, due contatti stretti, ovviamente il tampone è quello rapido. In questo momento sono giunti qui a Teramo, c'è stata anche la questura ad accogliere il sindaco di Teramo, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, per cercare di ospitarli al meglio. C'è anche l'Arci, la prima cosa ovviamente sono i tamponi rapidi che vanno controllati e i vaccini per quelli che sono negativi. Sentite il racconto in diretta. Noi siamo partiti da Roma con 16 mezzi venerdì, venerdì mattina alle 4. Abbiamo viaggiato tutta la giornata di venerdì fino ad arrivare venerdì sera alla frontiera polacca tra Polonia e l'Ucraina. Sabato siamo entrati solo con un mezzo per andare a fare un triage dei primi che erano presenti verso questa struttura. Questa struttura è individuata dalla Croce Rossa Ucraina per portare fuori tutte persone fragili dai vari paesi dell'Ucraina. Quindi c'è anche gente tra questi e quelli che sono già stati distribuiti in altri centri d'Italia, persone che arrivano anche da Kiev, da altri centri dell'Ucraina. Domenica siamo rientrati di nuovo con tutti i mezzi, abbiamo cominciato a caricare le persone a bordo dei mezzi. Domenica pomeriggio siamo partiti. Il viaggio è stato lunghissimo perché i chilometri ce ne sono tanti. Siamo arrivati in Italia ieri sera verso le 10, a Tarvisio siamo arrivati verso le 10 e poi piano piano durante la notte siamo scesi. Dividendoci in vari settori, chi è andato in Piemonte, chi è andato in Liguria, chi sta andando in Basilicata, in Sicilia, nel Lazio, ogni regione ha fatto del suo. Noi abbiamo preso i signori che devono essere accolti dalla regione Abruzzo e dal sistema insieme con i colleghi dell'Arci. Il totale che abbiamo fatto uscire da Leopoli sono 95, qui ne sono 16 e verranno sistemati in provincia di Teramo. Ci sono dei positivi? Sì, tra questi ci sono due positive e due contatti stretti.